Sono con Salvatore Almirante, oggi ti hanno annullato due gol, cosa è successo? Niente, è un periodo sfortunato, la palla mi picchia sulla mano e speriamo che gira questa situazione. Ecco, è un peccato non aver approfittato della superiorità numerica. Sì dai, non siamo stati bravissimi oggi, loro hanno avuto tre occasioni, ci hanno punito due tre le volte e noi abbiamo creato tantissimo secondo me, siamo stati molto sfortunati, due tre volte abbiamo calciato in bocca al portiere, due tre volte è uscito di niente. Speriamo che gira, la ruota gira. Noi abbiamo avuto l'impressione come se una volta che fosse andato in vantaggio avreste avuto la sicurezza di portare a casa la partita e quindi vi siete un po' adagiati. È un'impressione sbagliata? È successo questo nella vostra testa? Non lo so sinceramente, noi cerchiamo di lavorare sempre al 100% e anche in campo cerchiamo di dare il 100% tutte le partite fino all'ultimo minuto. Oggi è andata così e non ci possiamo affrontare. Quindi da dove ripartire? Ripartire con lo stesso impegno e secondo me è tutta questione di sfortuna. Ultimamente le cose non ci girano bene, loro creano poco e ci fanno gol che è successo anche domenica scorsa. Noi creiamo tanto e non riusciamo a concretizzare quello che creiamo. C'è una bella differenza tra la prestazione, malgrado la sconfitta della volta scorsa e quella di questa volta, cioè là meritavate se non il pareggio, insomma molto di più. Qua invece la sconfitta ci sta. Ci sta per come è andata la partita, allora erano in dieci però, te l'ho detto, loro hanno creato tre palle e ce l'hanno buttata dentro tre volte. Noi almeno una decina penso e abbiamo fatto solo due gol. Se la buttiamo dentro di più vinciamo noi.